Adesso un comunicato importante che riguarda il nostro telegiornale. Vogliamo informarvi che è finito il periodo di sperimentazione, quindi adesso è possibile vedere il TG IDEA, sarà anche disponibile in digitale web ogni sera alle ore 23 in collegamento con l'emittente web di Treviso Radio Science TV al link radioscience.it e su Radio Valdichiana online, sempre sul circuito Science al link radiovaldichiana.it. Poi alle ore 23 e 15 sarà trasmesso anche sulla nuova emittente di Trieste Radio Diffusione Europea TV. Il link è radiodiffusioneuropea.net. Radio Science TV e RDE Radio Diffusione Europea TV insieme alla testata giornalistica Pianeta Oggi TV di Venezia sono due emittenti che stanno lavorando all'interno di un ampio progetto mediatico innovativo con linee guida europee interessando anche realtà locali come appunto la nostra ospitando così il nostro appuntamento della TG IDEA anche su queste piattaforme. E poi vi ricordiamo che Tele IDEA è anche presente all'interno di www.mutina.com che è una piattaforma ideale per i televisori smart.